Buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Siamo quasi in dirittura d'arrivo del 2015 e anche per questo abbiamo voluto fare una puntata particolare quest'oggi con una puntata dove si gioca in casa, diciamo così in senso calcistico e proprio di questo parleremo di calcio e lo faremo con Fabio Ferri. Accanto a me che saluto, ciao Fabio, grazie di essere con noi, abbiamo sottratto altri sport per portarlo in studio a Telegram proprio per parlare di Fiorentina, Empoli e non soltanto, insieme a noi anche Erika Calvani che proprio stasera sarà in diretta con Viola Ecco. E anche naturalmente con Accomazzurro, quindi due appuntamenti da non perdere per fare il punto su quella che è stata l'ultima giornata di campionato della Serie A. Tra l'altro lasciami dire subito Alessio con ospiti eccezionali stasera. Un ospiti eccezionale, via diciamone un paio così diamo subito un altro video. Diciamone uno, Giancarlo Antonioni, quindi vi aspetto dalle 21.50 con Viola Express per parlare della Fiorentina, invece Accomazzurro ci sarà Antonio Boucher ore 21.20. Dalle 21.20 in poi tutto sport a Teleiride. Va bene, qui già un'ingerenza dentro del mio spazio per presentare la Fiorentina. No, a parte gli scherzi noi oggi ci concentreremo, anche noi insomma rubiamo un attimino a Telegram quello che di solito è il vostro argomento primario giornaliero, che è quello naturalmente dello sport, per capire però com'è andata un po' quest'anno della Fiorentina. Un anno che naturalmente nell'anno solare si conclude, quello di Montella, iniziare quello di Paolo Sosa, riportando un attimo la mente a quella che era l'estate, una preoccupazione enorme per Firenze, no Fabio? Perché partì insomma con un allenatore che aveva fatto bene e che era piaciuto a Firenze e che se ne andava, è un'incognita quella del portoghese, oggi insomma a qualche mese di distanza Montella è già bello e dimenticato. No, anzi, se lo ricordano bene i tifosi della Fiorentina che però se lo ricordano spesso solo per sottrarre qualcosa proprio a Vincenzo Montella, che in realtà insomma è stato autore di tre stagioni davvero indimenticabili. A Firenze oggi magari c'è un po' di livore nei suoi confronti, io penso perché la storia d'amore tra Montella e la Fiorentina si è conclusa male, però si è riaperta poi la parentesi Paolo Sosa, io ero in ritiro a Moena proprio nei giorni del passaggio da Montella a Paolo Sosa e Paolo Sosa è stato bravissimo sin dalla presentazione prima a Firenze e poi appunto dal ritiro a Moena a divenire lui protagonista per questa Fiorentina. Io mi ricordo che tutti i tifosi chiedevano degli acquisti, parlavano di Mario Gomez che non se ne doveva andare, tutti i tifosi comunque erano concentratissimi su un mercato che non prendeva quota in quel clima non certo sereno, non troppo disteso a fare da protagonista, a togliere un po' di pressione a tutta la società, a fare un po' da parafulmini. Intervenne un grande Paolo Sosa, davvero disponibilissimo con i tifosi e poi anche molto bravo. Sì, senza dubbio il legame tra Moorigno e Sosa non si arresta solo al paese d'origine, davvero molto bravo mediaticamente subito a conquistare la piazza, all'epoca si disse un po', posso usarlo il termine, un po' paraculo, però invece no, in realtà un Paolo Sosa che si è dimostrato davvero un fiorentino. Un fiorentino un po' filosofo, come siamo anche noi tra l'altro a Firenze. Erika, effettivamente insomma riguardando questi tre mesi, guardando da dove siamo partiti, è stato un inizio di anno veramente spettacolare, anche perché infatti, come dicevamo prima, il clima tra i tifosi era molto molto freddo all'inizio quando arrivò Sosa e poi però c'è stato anche naturalmente a contribuire a questo cambio insomma di ottica nei confronti della Fiorentina, oltre a Paolo Sosa anche qualche acquisto particolare che è arrivato a Firenze. Forse quello su tutti è stato quello di Kalinic, anche perché poi chi segna rimane naturalmente di più nelle gioie dei tifosi. Certo, capo panoniere della Fiorentina, però io continuerai prima a parlare comunque di Sosa e senza altro della vicinanza con i tifosi, però mantenendovi anche su questo doppio binario, Fiorentina-Empoli, c'è un parallelismo in questo perché entrambi gli allenatori nel 2015 sono arrivati in mezzo alle perplessità. Sosa a Firenze, nessuno comunque insomma davvero aveva le certezze per questo allenatore, ci ricordiamo comunque anche la campagna acquisti poi estiva non bella. Dall'altra parte ad Empoli il dopo Sarri non era semplice, così come non è stato semplice non poteva essere così il dopo Montella a Firenze, ma entrambi davvero hanno fatto benissimo e l'Empoli è a 27 punti, veramente una quota record per gli azzurri e la Fiorentina lo sappiamo insomma seconda in classifica. Non era mai accaduto questo che alla sosta natalizia nell'era della Valle la Fiorentina fosse seconda in classifica. Ha contribuito, senz'altro tornando alla tua domanda, Kalinic. Kalinic che è stato però segnalato veramente da Paolo Sosa, in discrezione ce lo riportano e ce lo confermano continuamente ed è per questo che insomma i tifosi si aspettano e sperano che anche a gennaio sia Paolo Sosa a segnalare qualche giocatore. Naturalmente dopo il colpo piazzato con Kalinic, ormai diventa lui l'uomo che indica i nomi tra l'altro innamorato talmente tanto di questa attaccante che insomma lascia spazio anche molto poco agli altri, soprattutto Babacar e Rossi, insomma se ne abbiamo parlato molto in questi giorni. Su questo ci arriveremo tra pochissimo, giusto perché Erika faceva il parallelismo vedendo anche chi è andato via, Sarri sta facendo molto bene a Napoli, per Montella invece insomma un po' un'attesa, poi è arrivato il contratto però insomma diciamo forse con il senno di poi rimanere un altro anno in più a Firenze magari gli avrebbe fatto piacere e avrebbe potuto fare qualcosa di importante. Che ne pensi fare? Io sono un montelliano della prima ora quindi faccio fatica a sbilanciarmi su questo avvio di avventura sampdoriana 2.0 per Montella. Ieri è arrivata la prima vittoria tra l'altro se non sbaglio proprio per Vincenzo. Sicuramente chi ci ha guadagnato alla fine dei conti è stata la Fiorentina, questo è innegabile. Dall'altra parte invece per quanto riguarda il passaggio da Azzurri a Celesti o comunque insomma passaggio da Empoli a Napoli di Sarri e con l'arrivo di Marco Giampaolo, sempre Azzurri sì infatti, diciamo che insomma alla fine Sarri ha confermato quanto di buono ha fatto vedere già con l'Empoli dimostrando di essere un allenatore che è in grado di darti un'identità sin da subito anche con qualche difficoltà perché il Napoli veniva da una gestione totalmente differente a livello tattico ma Sarri davvero ha dato solidità a un Napoli che prima aveva solo l'estero dei suoi attaccanti adesso anche la solidità dei suoi difensori fra l'altro difensori come Coulibaly che mi viene in mente in questo momento che non convincevano appena la piazza napoletana. Sì ma soprattutto a Higuain ancora Sarri. Ah Higuain sicuramente, quello è un fattore, un fattore capocannoniere davanti proprio al nostro calo inizio. Senti Erika, ma a Empoli il rimpianto Sarri un po' in ora è difficile perché effettivamente l'allenatore c'è ora, insomma si fa meglio dell'anno scorso, però il personaggio è uno di quelli che lascia lo strascio. Io anche questa mattina ero ad Empoli e ti posso dire che all'inizio davvero Marco Giampaolo non era molto amato e c'era il rimpianto di Sarri, comunque era vissuto un po' forse anche non ti dico come un tradimento ma sì contenti del fatto che Sarri davvero un eroe ad Empoli potesse fare la sua strada ed andare in una piazza ancora migliore, però insomma diciamo che senz'altro avrebbero preferito restasse. Adesso Marco Giampaolo è un idolo, un idolo a Empoli, tutti lo lodano, tutti veramente lo elogiano perché non potrebbe che essere così. Marco Giampaolo che comunque davvero ha dato comunque un'impronta ad Empoli, all'Empoli anche se resta poi un modo di giocare che già vedevamo anche con Maurizio Sarri e c'è da dire che giustamente parlava di giocatori prima Fabio, l'Empoli li ha perse di giocatori perché ricordiamoci Valdifiori, Rugani, Isai, insomma giocatori importanti se ne sono andati però Giampaolo è riuscito quantomeno, io direi anche la forza dell'Empoli perché Empoli è un gruppo, la vera forza dell'Empoli è il fatto che è un gruppo e è una realtà unita, dal magazziniere all'allenatore passando per il giocatore ovviamente. Tra l'altro questa è forse una chiave che si può utilizzare in parte anche per la Fiorentina perché un tratto dei toscani in senso allargato forse è stato già disegnato quello di essere un po' titubanti quando arriva una persona nuova, insomma siamo sempre molto scettici di base, in parte pessimisti come i toscani e poi ricreduti entrambi sia su Paolo Sosa che naturalmente è sull'allenatore dell'Empoli, l'altro tratto evidentemente è anche quello però di riuscire a mantenere un livello piuttosto basso, il livello di un grande gruppo di giocatori che alla fine si divertono e questo forse è quello che viene trasmesso meglio sia dall'Empoli in prima persona ma anche dalla Fiorentina, insomma si è vista anche alla scena a cui insomma anche te eri che c'eri qualche giorno fa insomma l'impressione è quella di avere un bel gruppo di ragazzoni che si divertono. Tra l'altro dopo vedremo anche una foto con il direttore che parla con Tomovic molto particolare, ve la mostreremo più tardi, però insomma l'idea è quella... L'eroe del direttore per l'altro, soliamolo questa cosa, Tomovic è l'eroe del direttore. L'eroe del direttore, il pupillo, profettissimo. Insomma la sensazione è questa, che alla fine non ci sia quella distanza molto grande con questi giocatori magari in altre piazze, Milano, Roma, anche Napoli forse, insomma ci sia una distanza così grande, insomma a Firenze la percezione che un gruppo normale stia facendo qualcosa di eccezionale, è così. Firenze è anche Empoli in realtà, è perché sono assimilabili in questo. Vai te, vai te Erika? Io direi che comunque sono diverse, cioè assimilabili fino a un certo punto, perché comunque Empoli vive davvero una stagione straordinaria al di là di ogni limite. Questo anche la Fiorentina, perché nessuno si aspettava certamente che dopo la 17esima giornata di campionato la Fiorentina fosse seconda ad un punto dalla capolista, perché ricordiamolo Fabio Ferri, è soltanto ad un punto dall'Inter. Detto questo, comunque sono due realtà diverse, perché Empoli non vive pressioni, Empoli è un po' un'isola felice comunque della Serie A, un'isola spensierata che propone il proprio gioco. Firenze già è diversa, una realtà diversa, una realtà più grande e quindi una realtà anche con obiettivi diversi, perché l'Empoli adesso la vediamo la sua, 27 punti, ma comunque l'obiettivo dell'Empoli ha iniziato dicendo mi voglio salvare. La Fiorentina ha ambizioni diverse e quindi comunque un parallelismo sì, però fino a un certo punto. Quel che è vero è che la Fiorentina gioca con degli uomini normali e questo è vero e sta facendo qualcosa di straordinario senza avere il vero top player che magari hanno altre società, altre squadre, senza aver fatto quegli investimenti così importanti, senza avere un monte in gaggi così importanti come altre società. Tra poco del monte in gaggi ne parleremo soprattutto nella seconda parte, però effettivamente come diceva Erika, va via il top player che deve essere Mario Gomez, arriva un po' lo sconosciuto Kalnic, diciamolo un po' così, alla Fiorentina, però i risultati cambiano, almeno per quanto riguardano i punti, insomma i gol realizzati proprio dal centroavanti perché insomma il confronto è impiettoso. Senti, molto onestamente quando appunto sono arrivato a Moena la mia sensazione, la sensazione che comunque avevo è che la squadra si fosse indebolita perché era andato via un organizzatore del gioco come David Pizarro, uno con una grandissima esperienza in Serie A, era andata via la qualità di Aquilani, era andato via Vargas che pur con tutti i suoi problemi dentro e fuori dal campo era comunque un giocatore che aveva dei momenti in cui diveniva determinante, quindi avevo la sensazione che forse sarà ovviamente, insomma il caso dell'estate, come dimenticare sarà, però via via che siamo andati avanti in questa avventura e anche con Erika l'abbiamo detto molto spesso, abbiamo avuto anche una certezza che questa era una Fiorentina che magari partiva un gradino sotto a quella di Montella che aveva ottenuto le semifinali di Europa League ma che a fine stagione sarebbe potuta essere una Fiorentina più forte di quella dell'ultimo anno di Montella perché in ballo c'era il recupero totale di Ilicic che comunque è stato davvero un diamante raccolto dalla spazzatura, c'era l'evoluzione di Federico Bernardeschi e ce l'abbiamo sotto gli occhi e poi soprattutto c'erano anche tanti casi in meno, l'anno scorso comunque la Fiorentina ha vissuto il caso di Neto ad esempio che secondo me è emblematico, è stato difficile da gestire anche all'interno dello spogliatoio, quest'anno anche per la normalità, l'equiparazione tra i vari giocatori la Fiorentina ha vissuto meno casi, ha vissuto meno scossoni, Sosa è stato bravo anche in questo, ha equilibrato un po' il tutto e alla fine forse davvero questa Fiorentina riesce a sbocciare e ad essere migliore di quella dell'ultimo Montella. Anche se un caso se lo vogliamo dire un po' c'è, vabbè non lo vogliamo chiamare caso, comunque ci sono le aspettative su Giuseppe Rossi e soprattutto le parole di Paolo Sosa in merito a questo, perché Sosa nella conferenza stampa prevalentemente pre partita, pre Chievo ha parlato insomma di un giocatore che prima di tutto deve essere felice e che se questa felicità, se per trovare la felicità serve il prestito, il giocatore deve essere felice. Insomma ha fatto intendere tra le righe comunque che se vuole andare via in prestito per giocare di più probabilmente lui non si opporrebbe. Ha fatto intendere insomma che il giocatore non è felice e che l'allenatore però per rendere felice lo lascerebbe anche andare evidentemente, ma la strada è sempre questa. La domanda di fondo è dove oggi si leggeva del Betis e comunque è una indiscrezione un po' rilanciata anche da altri esperti di mercato, ma diciamoci la verità, il problema di Giuseppe Rossi è che in genere giocatori del suo profilo non vanno in prestito, o vengono ceduti oppure stanno nella società dove vengono, perché è un giocatore con uno stipendio importante, un giocatore con un passato importante, quindi è veramente difficile, io non ricordo a memoria una situazione simile a quella di Giuseppe Rossi, perché io anche un Del Piero davvero in difficoltà dopo il famoso infortunio che ebbe a metà anni 90 rimase alla Juventus nonostante insomma sembrasse un giocatore che non rientrava più a un certo livello, quindi è davvero difficile questa situazione Giuseppe Rossi da interpretare. Erika giustamente parla di Giuseppe Rossi, l'altro semicaso, lo chiamiamo così, è quello di Kumail Babacar che secondo me è ancora più preoccupante perché la società ha rinnovato il contratto, poi ora non voglio parlare in termini negativi della Fiorentina perché una stagione così è davvero semplicemente da elogiare, ma il caso Babacar è un po' sotto gli occhi di tutti, ha rinnovato a un milione e mezzo a stagione, quindi contratto decisamente importante per un giocatore giovane su cui la società ha puntato, però non sta trovando il minutaggio che anche le sue prestazioni secondo me meriterebbero, perché al di là di tutto quello che si può dire di Kumail Babacar rimane il fatto che quando gioca ha una strana tendenza a fare gol. E comunque se dovesse essere un giocatore, anche lui da rientrare nei piani di mercato in uscita, sarebbe comunque un giocatore che avrebbe delle pretese anche sia sui minuti dei gioco ma anche sulla classifica, sulla massima serie naturalmente e sulla titolarità, insomma però l'avere l'opportunità di giocare i più minuti possibili, bisogna vedere anche chi sarebbe disposto a comprare. Io penso su 20 squadre, 14 dovrebbero comunque considerarlo come titolare innamorabile, le altre forse no. Attenzione perché lo stesso Paolo Sosa parlando di mercato ha dichiarato più volte che il suo timore non è tanto per i mancati arrivi quanto per le partenze, lo ha visto e lo ha vissuto sulla sua pelle con la partenza di Savic, ci ricordiamo tutti quell'espressione io comunque faccio l'omelette con le uova che ho, adesso possiamo dire senz'altro che ha fatto una bellissima omelette. Le uova erano evidentemente buonissime. Ha fatto una bellissima omelette e però per il 2016 lui rispondendo un po' alle domande dei giornalisti, comunque gli pongono il fatto dei regalini, questa espressione di Andrea della Valle, i regalini di gennaio e di Natale, lui dice adesso l'asticella si è alzata e quindi c'è bisogno di più da parte di tutti, dell'allenatore, dei giocatori ma anche della società. Il messaggio mi sembrava abbastanza chiaro, Fabio, insomma era leggibile in questo senso che ci fosse un occhio, bisognerebbe tenere un occhio al mercato su un difensore principalmente, sembra quella l'idea che poi tra l'altro ricordava giustamente Erika parte Savic ma poi adesso insomma ci si trovano a metà stagione più o meno. Parte Savic e arriva l'altro Mario, l'altro Mario, Mario Suarez, l'altro tormento, l'altro tormento, no quello è un caso vero, quello è un caso vero perché Suarez non rende assolutamente come ci si sperava. Non rende per l'ingaggio che ha tra l'altro. Non rende per l'ingaggio che ha, per la storia che ha, per il tipo di giocatore che doveva essere per la Fiorentina, insomma ieri ho visto un buon Cavalero in grande difficoltà fisica, nonostante poi abbia giocato una buona partita ma insomma avere avuto un'alternativa come Mario Suarez, vero, avrebbe fatto veramente comodo. Naturalmente sì, e sul difensore quali potrebbero essere i nomi? Il nome di Lisandro Lopez del Benfica, argentino che però insomma secondo me è stato un po' troppo sbandierato, io non mi fido perché è stato talmente tanto sbandierato che in genere la Fiorentina ci ha abituati a pensare che quelli sbandierati poi non arrivino, però insomma è stato caldeggiato questo nome da più aspetti di mercato. Poi c'è Marlon del Fluminense, si è parlato di Mexess, si è parlato di tanti nomi ma alla fine mi resta, come dire, mi resta la sensazione che il nome che arriverà è un nome che ancora non abbiamo sentito, sicuramente sbagliamo Andrea Della Valle comunque nel post gara di ieri ha detto pochi ma buoni, quindi il messaggio è quello, pochi ma buoni, bisogna vedere anche perché il mercato di gennaio è sempre un po' pericoloso, perché si rischia di spendere tanto e poi per situazioni magari poi non si risultano... Parole di Andrea Della Valle sono state, è rischioso, rischiano di arrivare delle sole E io me ne intendo, infatti ha detto, però insomma pochi ma buoni Vedremo qual sarà il mercato della Fiorentina, insomma saranno mesi di ferie per i giocatori saranno mesi di ferie anche naturalmente per i dirigenti, non però per quelli che si occupano del mercato, perché invece questa è la finestra importante per dare una mano a Paolo Sosa Allora ci fermiamo per questa prima parte, nella seconda torneremo a parlare naturalmente di Fiorentina e Empoli, toccheremo anche il tema delle elezioni in Lega Pro, molto importante ci saranno domani e naturalmente vedremo anche quello che abbiamo anticipato da una parte quella è la situazione dei Monti Ingaggi, delle prime squadre, delle prime quattro squadre in Serie A e vedremo anche la foto del direttore con Edat De Tomovic che insomma è il suo pupillo, l'idolo del direttore Marco Taluri Allora restate con noi, 5 minuti di informazione e poi torniamo in studio